Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Oggi torniamo con i premi di FIFA, della UL e del secondo account. Abbiamo fatto meglio del primo. Non è normale, visto che è una squadra tipo un quinto della forza che c'è il primo account. Però dettagli. Abbiamo fatto il classico livello 5, quindi speriamo in qualche sculata, magari un Eder Militao in questo account sarebbe fantastico. Io direi di non perdere l'altro tempo, vi ricordo soltanto di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se non lo fate vengo a cercare e vi picchio con il telecomando 1 e ci mettiamo anche questo. Quindi proviamo a sculare, visto che non ci sono carte speciali oltre al Team of the Week, visto che ci sono solo SBC, quindi più walkout ci sono a me va solo che bene. Quindi apriamo gli 84 o più nella speranza di trovare subito qualcuno e poi apriamo tipo 1500 pacchetti. Vai! 84 o più, facile, subito Messi. Perfetto, Marez, ottimo. Va bene, ci sarà una sculata, non ti preoccupa. Giordialba. Che per fortuna che l'ho buttato ieri in un SBC. Va bene, dai. Non mi ricordo neanche chi c'è negli GIF della settimana a partire Militao, sinceramente, quindi... Potrei trovare chiunque. Magari uno buono. Uno con le gambe! Diciamola così, vai! L'ho trovato veramente! Subito! Ma che carta ha! Titolare! Non so come lo ibrido, ve lo ha anche Neres. Provare a dar Militao, subito. Via! Adesso a questo punto dammi Kovacic, che mi serve per l'ibrida inglese. Prendiamo lui per l'overall. Non lo farei mai giocare. 94 di forza! E che cacchio? È Romelu Lukaku questo. Vai! 86... 86, questo è 88. Vai! Uh, cacchio. Anche Rabbiò però è una bella carta. Fammela vedere. Allora, questa... Ok... Fammi vedere Rabbiò come ho messo a carta. Eh, forse mi piace di più Rabbiò, eh. Visto che c'è una Serie A, lo metto al posto di Barella. Se mi vendo Barella. Eh, Kovacic, cazzo, la prende... La Serie A o il Sangue Croato? No! Eh... Sarabbiò. Tanto Kovacic ce lo troviamo nel... Negli IF. Ecco, non serve male trovare negli IF un Nether Militao, perché mi pare che ho vestito il prezzo, valeva tipo mezzo milione. Mi servono soldi sul secondo account. Perché vi mostro subito la squadra che ho. Cioè, questa è la squadra con cui ho fatto il livello 5. Calcolando che le prime partite avevo di Natale. Cioè, questa. Non è che abbia un full icon. Giusto per dire. Però ragazzi, io non vorrei dire, ma... Quest'uomo... E' Dio sceso in terra. Cioè, da Alla mi ha fatto 78 partite, 26 gole e 19 assist. Ma ecco... Ma anche Osimè, non scherza. 75 partite, 68 gole e 24 assist. Un attaccante. Al Chabert e lo sceico degli sceicchi. 85 partite, 87 gole e 60 assist. Un mostro. Di Natale... Certe partite sembrava Ronaldo il fenomeno, certe partite sembravo io. Quindi... Uno scarpone. Però, dettagli. Un TT regge più di screener. Non è normale. Allora, abbiamo tanti pacchetti. Pacchetto, vai. Due Rai, 80 più. Prima abbiamo uscolato dall'80 più, quindi... Infatti, Walkout. Brasile. Vabbè. Pareco. Vabbè, è buono. Mi sono diventato... Oddio santo. Confondo anche le bandiere. Grande, Alvaro Morata. Doppio spagnolo. Mi sono diventato Speed. Un cacchio si chiama. 5,80 più. Vai. Dai FIFA. Dai FIFA. Madonna mia. Come niente. Next. Dai ragazzi, dai. Voi, quando vedete questo video, avrete già visto la reaction di Tagli Inghilterra. Io, ovviamente, devo ancora registrarla, perché è sabato. Sto facendo questo video che è sabato. Quindi, la partita è giovedì. Quindi, è ancora lunga. Quindi, speriamo bene per l'Italia. Dai, è grande edin. Non lo so, mi sento che vinciamo... Dopo non lo so, eh. Io adesso non so come mostrarvi che giorno è. Aspettate. Non so se leggerete mai perché c'è la luce. Aspettate. Ma è... Non vedrete mai. È il 18. Si dovrebbe leggere. Va bene. Quindi, io ve lo dico. L'Italia vince 3 a 1 contro l'Inghilterra. Questo video andrà sicuramente nelle mie prediction. Con risate finali. Quando perderemo noi 3 a 1. Ma dettagli. E ne ho avanti. O lo premio maxi. Dai FIFA. Niente. Ecco, mi ha trovato l'inglese. Meso, mount. Vabbè. Ci avrà sicuramente segnato mount, no? E Sancio, perfetto. Tutti inglesi adesso. Sperò solo che inglesi. Mannaggia, Guita Murt. Fatemi sapere se... Voi come avete vissuto la partita. Visto che sono le qualificazioni mondiali. Eh sì, mondiali. Magari mondiali. Gli europei. Va bene. Mega pacchetto. Vai. Dai FIFA. Bandierina. Tilemans. Allora. L'ho visto nel belgio. Ho detto. Non è che... Ma così FIFA. Visto che... In questi bellissimi pacchetti. Di solito ogni tanto sculo sul secondo account. Non è che magari è un Icon. Visto che non l'ho mai trovato sul secondo account. Così, eh. No. Brasile. DC. Diego Silva. Ok. Buono per l'SBC anche lui. Però... No, è doppione non scambiabile. Vabbè, loro su questo account dovrebbero riuscire a recuperarlo in qualche maniera. Vai. Apriamo il team of the week. Questo è Kovacic. Non è neanche bandiera. È Goodwin. È proprio buona vittoria. È proprio il mio amico australiano. Mannaggia a te però. Cioè, se Goodwin è il migliore, ho paura di cosa c'è sotto. Masuako e Sakala. Comunque tutti giocano in campionati molto belli, eh. Cioè, uno in Turchia, uno in Australia e uno in Scozia. Gli ho santo, i britabili subito. A te ti scarto direttamente perché sono crediti. Quanto costi Goodwin? Comprano a 12. Vai. Ma guai le Masuako. Vai. Dentro tutti. Vai. Almeno. Ci guadagno qualcosa. Visto che abbiamo tanti crediti, ma vorrei comprarmi Mbappéi là davanti. Ma prima di arrivarci. Abbiamo appena 2.45. Dove ha 600 milioni. Apriamo orari non scambiabile. Vai. Bandierina. Bandierina numero Cialanoglu. Numero Cialanoglu. Sì. Grande Cialanoglu. Più doppioni che giocatori normali, però. Dettagli. Dai, ultimi 3 pacchetti. 50.000, 100.000 e 125.000. Una gioia. Niente. Chi è? Malinowski. Ma l'ho trovato 2 secondi fa Malinowski. Ma non ci sono giocatori speciali. Vabbè ragazzi, ultimi 2 pacchetti per riuscire a scolare qualcosa. Scusa, tanto so già che se in uno di questi due sculo trovo o Rabiot o Edermilità o non scambiabile. Perché sono entrambi non scambiabili, mi pare. O forse 125 scambiabili, non lo so. Ok, wake out. Mbappé. Italia. Cici. Giorginio. No. Verratti. O come dicono in Francia. Marco Verratti. Che sembra più giapponese, però va bene. Marco Verratti con i cifo. No, quello è cinese. Scusate. Vabbè. Fa fondo le lingue. Vabbè. Ci vediamo nell'ultimo pacchetto, sperando di sculare. Ce la faremo, non credo proprio. Ma dettagli. Eccoci qui. È scambiabile, Italia e FIFA. 125.000 crediti questo pacchetto sarebbe. 20 euro. 20 euro. No, giusto così. Infatti, solo bandiera. Pazzesco. Italia, COC Pellegrini. Pellegrini. Bene. Vabbè ragazzi, con Pellegrini che ci dice vinceremo l'europeo. Vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanina. Se non lo fate vengo a cercare il picchio con il classico telecomando. Seguitemi qua su Instagram, qua su YouTube. Ovviamente ho trovato Isaac che era speciale fino all'altro ieri. Con Ozyman che la canta, il suo trionfo in campionato. Penso che appunto vi posso salutare. Guardiamo nei doppiani giusti, se ho sculato a caso ma non penso perché è uscito Pellegrini infatti. Niente. Posso dire soltanto che non so quando, non so come, non so perché. Ma l'importante è dire... Non lo so. Più in qual è l'importante. Ciao. Ciao.